È vero che per il Milan, magari nei 26 anni di Berlusconi, il terzo posto è sempre stato un obiettivo minimo. Credo che quest'anno, dopo soprattutto un inizio disastroso, la squadra ha fatto grandissime cose. Ha perso solo una partita nel giro di ritorno sul calcio di rigore a Torino. Credo che per quello che ha fatto la squadra c'è da essere contenti. Io sono molto contento e soprattutto devo ringraziare i ragazzi per quello che hanno fatto. Stasera soffrendo, lottando, hanno portato a casa.